Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti a un nuovo appuntamento con gli acquisti della settimana ovvero la marea di materiale che andrà ad accumularsi sulla mia pila della vergogna questo è quello che io ho selezionato con questa settimana e ci ho messo pure qualche recupero questa volta per farla un po' più cicciottella e per darvi una visione completa di quello che io seguo o quantomeno tutto quello che mi interessa vediamo se questa formula è leggermente più ampia, anche se non c'è tantissima roba di recupero, vi possa interessare o meno il primo titolo è proprio un recupero, era uscito credo tre o quattro settimane fa, già un pochino ma andava talmente via veloce che non ho mai fatto in tempo a prendermene una copia parliamo di un titolo della BAO e parliamo in particolar modo delle guerre di Lucas eccolo qua, un volume da 23 euro ad opera di Renaud Roche e Laurent Haupman madonna quando parlo francese mi sa che appona la pelle da solo che è praticamente la storia della nascita del mito di Star Wars e della storia vera e propria di, credo di George Lucas a quanto ho capito, non è che c'è proprio lui poi in copertina vediamo un po' che cosa dice uno sguardo inedito sul Dietro le Quinte di Star Wars ovviamente io sono appassionato di Star Wars anche se non di tutta 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 la saga o tutta tutta l'epoca ho ovviamente dei buchi magari importanti ma soprattutto ecco quelle serie e Clone Wars queste cose qua magari erano pure fatte bene me ne sono perse e rimpiango però altre cose non è che bambi erano mai fatto in pazzi più di tanto a partì da sei capitoli su nove ecco per farvi capire mi concentro su quattro, cinque e sei però quando c'è Star Wars io ci butto sempre un occhio il Mandaloriano l'ho visto i film usciti dopo l'ho visti solo tutte queste cose qua e adesso sto seguendo Diacolite ho visto Vasuga ecco nel mio DNA c'è rimasta la fiammella per Star Wars e quindi quando vedo questo il mio interesse viene calamitato uno sguardo inedito sul Dietro le Quinte di Star Wars dall'infernale girone dei casting all'incubo delle riprese passando per le tensioni tra gli attori le storie d'amore clandestine e i problemi sempre dietro l'angolo un vero e proprio campo minato da cui però uscirà un capolavoro che stravolgerà per sempre la settima arte Le Guerre di Lucas è un'immersione totale nella tormentata ma non di meno appassionante creazione di un mito making of definitivo di un pezzo di storia del cinema è un inno alla magia dell'infanzia e la tenacia di chi voleva ritrovarla a tutti i costi e allora grazie a una rigorosa documentazione un amore incondizionato per un'opera immortale Le Guerre di Lucas mette in scena l'ascesa di George Lucas da giovane scavestrato che ha rischiato la morte a prodigio visionario della nuova Hollywood e questo come è nostro solito in questa piccola rubrica è il mostrarvi uno spaccato dell'albo per farvi capire anche un po' com'è l'aspetto grafico del tutto perché sì il contenuto è per me è la cosa più importante ma molti molti hanno bisogno anche che quello che vedono li appaghi e qui mi sembra che la qualità c'è ce n'è svariata molto buona anche la carta non mi sembra neanche troppo troppo trasparente anzi no devo dire che la resa è molto molto buona e sono super iper curioso però c'è un altro titolo BAU l'abbiamo presentato martedì nella no martedì o no nella seconda puntata forse l'abbiamo mostrato proprio ieri nella nella puntata di giovedì e abbiamo Rive Lontane eccolo qui anche questo 23 super cartonatissimo è un'opera di Anai Flogni Rive Lontane parla di due tizi che fanno parte della malavita uno è già affermato e l'altro diciamo viene considerato un astro un astro nascente fino a che appunto questo astro nascente non non aumenta la propria influenza la propria importanza all'interno dell'organizzazione comincia a essere visto di cattivo occhio dal diciamo dal suo mentore da quello che lo ha poi fatto crescere all'interno dell'organizzazione e anche qui ecco più che la tematica mi hanno intrigato non poco i disegni che sono a mio modesto a modestissimo parere una commistione di tanti stili perché abbiamo sia una linea molto chiara europea ma ci sono molti tratti che sembrano subire una contaminazione orientale giapponese in particolar modo non si vede in tutte le tavole ma in molte si percepisce proprio un po' una manghizzazione ma questo assolutamente non è detto in modo negativo per carità per carità lungi da me però è un volume fatto veramente veramente molto molto bene e anche questo spero di riuscire a leggerlo in non troppo non aspettare molto molto tempo prima appunto di farlo passare tra le mie mani un pochino di supereroi o di un pochino in realtà ce ne sono svariati comunque novità di questa settimana superman lost mi ci sono avvicinato non per il titolo non per niente ma perché ci hanno buttato l'occhio sia Valerione che Sasà entrambi erano stracuriosi di leggerlo e ho detto vabbè ma perché perché non provarci perché non aumentare la mole di pagine da leggere eh io devo ancora trovare il segreto per trasformare le 24 ore in 48 ma forse prima o poi ci riuscirò le tavole mi sembrano veramente molto molto belle una costruzione molto interessante disegni altrettanto altrettanto validi ma poi ecco se conoscete i volumi questi più o meno ecco DC Library come formato la qualità è sempre eccelsa 29 euro ci sono ben 10 storie ai testi troviamo Christopher Priest e Carlo Pagulaian ai disegni mi pare che avevamo già accennato alla storia avevo letto qualcosa Clark Kent riceve una chiamata per una missione di routine della Justice League ah sì che lui si allontana per questa per questa missione ma in realtà per lui trascorrono tipo 20 anni e quando ritorna praticamente non trova più niente di familiare intorno a sé niente nessuno infatti gli è più familiare persino il legame indissolubile tra lui e l'Oise è stato deciso dal tempo oppure no punto interrogativo è solo ai posteri l'ardo a sentenza molto 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 cool saltiamo però da DC a Marvel perché dopo che mi sono approcciato Ultimate Spider-Man mi è ritornato quel senso ragnesco quel come dire friccichio ecco quel friccichio che mi vuole riportare verso quell'ambiente pieno di ragnatele perché comunque l'uomo ragno ha fatto parte della mia carriera di lettore di fumetti per molto molto tempo e starne lontano mi fa anche un po' male come sapete bene ogni volta che c'è un reboot io provo a riavvicinarmi ma non c'è mai una storia così forte da farmici rimanere al contrario ecco l'Ultima Spider-Man suci tre numeri e tre numeri mi sono pappato spero che un volume con una storia che contiene cinque numeri dallo zero al quattro completa compiuta magari abbia dato più libertà creativa agli autori e quindi magari la possibilità di realizzare un racconto soddisfacente quantomeno soddisfacente troviamo Ahmed e Ferreira Ahmed come dicevamo è lo scrittore dell'attuale ciclo di Daredevil mentre Ferreira ha fatto Spider-Man Noir e Deadly Neighbor Spider-Man gli diamo una chance costa 24 euro eppure questa settimana portafoglio piange male andiamo su un paio di manga io sono lontanissimo dal mondo di Dark Souls videogiochi che sono arrivati dopo che io avevo smesso di avere il tempo per giocare però questo Redemption mi ha intrigato non poco e dopo capirete anche il perché quando vi dirò la similitudine che ci ho trovato 7 euro e 50 la similitudine sta tutta quanta nei disegni e i disegni non possono che riportarmi in parte a Berserk e guardate qua soprattutto l'armaturona che spettacolo è veramente ben fatto ben realizzato e la curiosità è divampata in me sto trovando anche dei vocaboli nuovi per raccontarvi gli acquisti di questa settimana è divampata in me non so se va letto qualcosa prima se a sé stante però mi ci voglio tuffare mi ci voglio sicuramente tuffare vediamo un po' che dice qua dietro preparatevi ad affrontare le anime solitarie e emergere ancora una volta nelle tenebre con questa storia originale e inedita dal mondo di Dark Souls e speriamo appunto non ci siano troppi troppi riferimenti è un numero 1 e vediamo per quanto andrà per le lunghe non ci sono tavole a colori però insomma sicuramente qualcosa di diverso ma con atmosfere appunto simil berserkiane che mi sono mi sono familiari e perché parlavo di berserk non perché io mi sia andato a prendere il 42 il chiacchieratissimo 42 o l'83 l'84 anche se io berserk l'ho cominciato a leggere in sottiletta dal primo giorno che uscì per Panini Planet Manga all'epoca cioè proprio appena uscito e ho fatto pure un boato di pubblicità perché sicuramente a Monteverde e dintorni berserk l'ho diffuso io e poi da lì si è allargato in tante altre parti di Roma me ne prendo proprio il merito così come per tanti altri autori non mi ricordo a chi lo diceva lo dicevo proprio al regista Gabriele Mainetti e lui Giro Taniguchi Naoki Urasawa cioè la pubblicità che gli ho fatto io penso che Panini se mi desse le royalties per tutti gli albi che gli ho fatto che gli ho fatto vendere penso sarei veramente multi 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 milionari comunque a parte gli scherzi e ai giochi è uscito il 42 e io che ho deciso io mi faccio una rilettura del berserk sono matto eh eh lo so sono matto però io tuttora ritengo almeno i primi 13 sì io sono di quelli uno di quelli che dice che fino all'apocalisse eh sono picchi picchi non sto dicendo che resto è brutto non fraintendetemi ma il picco che si raggiunge nei primi 25 26 numeri e 13 d'Ancombon della serie nera sono picchi secondo me mai più raggiunti ehm all'interno di un manga chiamiamolo semplicemente di avventura ma anche oltre anche al di là del genere del vero e proprio manga un'intensità incredibile veramente Miura si è superato fantastico impossibile non leggerlo o fare finta di non vederlo è una storia eccezionale e quindi nel poco tempo che faccio io ma voglio rileggere Berserk fine fine ma siccome non mi abbastava no non mi abbastava no quando abbiamo presentato questo topolino uscito in occasione dell'Etna Comics sfogliandolo io che se vi ricordate la puntata andatela a rivedere sfogliavo ho visto la prima storia e dice ma ammazza è sempre più bravo i disegnatori eh questo mi piace proprio ah sì 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 bello forte mamma mia ma che autori eh e c'è Cavazzano e io cioè quando c'è Cavazzano la calamita come l'altro albo come Star Wars e niente mi si attacca addosso e io non riesco a farne a meno e quindi mi prendo topolino proprio per leggermi la storia di Cavazzano e magari poi trovo pure altre belle storie perché comunque è pieno di autori ultra 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 validi questo è l'Etna Comics è il topolino 3576 e costa 7 euretti mi sa che devo accelerare perché Gianni sta aprendo le porte sopra a proposito di recuperi ecco ne facciamo vedere un paio uno è un manga vado avanti con i rayasumi di Keigo Shinzo non possono andare avanti con i rayasumi perché è stupendo è bellissimo è il mio angolo di conforto insieme a Insomniacs After School che tra l'altro sono riuscito a mettermi in paro con il numero numero 10 qui i rayasumi numero 5 è una gioia è una gioia per il cuore per la mente per tutto quanto e poi si prosegue anche con il numero 2 di Gods eccolo qui Dan Slott ritorna Superior Spider-Man e che fai non ce li provi e qui dentro ci sono poi più o meno almeno per un certo numero di albi tanti di quei disegnatori che avevano contribuito all'epoca alla realizzazione di quel ciclo e ovviamente tra i tanti c'è anche Camuncoli c'è pure Ramos Bugley chi più ne ha più ne metta e vediamo se sono riusciti a tirare fuori qualcosa di interessante al prezzo di 3 euretti pure questo no l'uomo ragno sono 5 scusatemi 5 5 euros poi come mi manca l'uomo ragno a me mancano gli X-Men perché io c'avevo i miei due spillati dell'epoca che andavano di pari passo c'era l'uomo ragno e gli X-Men insieme poi a tanti altri che poi c'erano quelli della della Playpress c'era Flash Lanterna Verde c'era i Fantastici 4 che dentro poi c'era pure Hulk e chi più ne ha più ne metta no però quei due uomo ragno e X-Men mi sono andati a recuperare tutti quanti ai vecchi nuvoli parlanti quando ancora stavano a Monteverde quindi mi mancano gli uomo ragno ma mi mancano anche gli X-Men e siccome di questo ciclo seppure io ho zompato perché io ho letto House of X e Power of X ma tanti mi hanno parlato bene di Mortal X-Men tra cui anche Verterino dell'Edera e non posso non provare ad approcciarmi adesso che sono stati raccolti dieci numeri in questo volume da 32 euro a quella che sarà definita forse la sono state definite le storie più politiche dell'Edera Cracoiana degli X-Men questo Cracoa generato e creato non dalla stessa sostanza del padre ma da Jonathan Hickman voglio vedere se ci capisco qualcosa se mi piace c'è Chiron Gillen se non sbaglio ai testi insieme a Werneck e Bandini lo voglio lo voglio proprio vedere facciamo vedere anche un'altra tavolozza così anche in questo caso volume di pregevolissima fattura una gioia per gli occhi e speriamo sia anche per la mente e un altro dei supereroi che come potete immaginare è proprio qua appoggiato sul mio corazon è Batman e qui non vi fa proprio tutta una lettura tutta l'esempio è copertina David Mazzucchelli e Batman hanno uno ma io che cosa che cosa vi devo dire c'è un botto un botto di roba adesso vi vado a descrivere se ci riesco comunque racchiude le storie più importanti di Batman poi c'è pure full circle se non vado errato ci sono tante tante storie c'è pure Batman hanno due sì c'è pure Batman hanno due allora qua infatti viene riportato Batman hanno uno Batman hanno due è un botto un botto di roba aspettate che si acchiappo il punto esatto ecco qua viene citato Batman full circle quindi ragazzi se qualora non aveste letto queste storie di Batman il consiglio è quello di mettere qualche spiccietto da parte per poi affrontarne la lettura perché perché sono stupende atmosfere sublimi cioè una narrazione incredibile ci trovate Frank Miller ma io non so che cosa possiate chiedere più dal fumetto con la F maiuscola volume interessantissimo secondo me dovrebbe finire in tutte le librerie di un appassionato di fumetti prezzo l'ho detto 38 euro e quindi il consiglio è quello di accattarselo un altro manghino mentre passa anche Riccardino il volume di Suzume non ho fatto in tempo a vedermi il film in streaming e ci provo con la lettura del manga 25 euro e 90 tre numeri la storia di questi due ragazzi che attraversano una porta e si trovano in un mondo diverso a quanto ho capito le modalità narrative di Shinkai a me non dispiacciono qui affiancato da Denki a Mashima e gli diamo una chance e vediamo che cosa ne esce fuori sono comunque molto molto curioso chiudo con un altro non manga e non supereroe ma è la puntata della Marcotte che vedevo di quando ero piccolo tutti mi scherzavano no vabbè quella era un'altra canzone un'altra storia sotto casa noi avevamo la combriccoletta non era una vera e propria comitiva perché io ci stavo già da quando ero più piccolo ma perché perché c'era l'edicola sotto casa io ero amico dei proprietari dell'edicola e soprattutto del figlio dei proprietari dell'edicola quindi passavamo i pomeriggi delle vacanze estive prima di partire sempre sotto lì da lui e ovviamente c'era l'occhio del padre o della madre che ci guardavano noi ragazzini e quindi si stava dentro tanto tempo tante tante ore tante tante volte e si sfogliavano fumetti e oltre a Alan Ford un altro mito era Tex quindi ho letto tonnellate di pagine di Tex mi sono collezionato il tutto Tex non so per quanti numeri quindi quando vedo un albo di Tex cartonato questo era il quarto Texone se non sbaglio dove c'è Nizzi Claudio Nizzi che a me piace molto come scrive affiancato ai disegni da un mito un maestro come Sergio Zanibboni più un borovente finisce tra le mie mani prezzo 27 euro per godere di tavole incredibili eccolo qua e qui ritornando sempre a Werther anche lui grande appassionato di Tex potrà solo che essere d'accordo con me Zanibboni sfoggia una maestria eccezionale seppur lui di fronte a un primo invito di Bonelli disse no no per carità un fumetto dove c'è stanno i cavalli io proprio non lo voglio né vedere né sentire poi narra la storia che durante credo una vacanza un certo periodo si trovò vicino a un maneggio e incominciò ad armeggiare a ritrarre i cavalli e si rese conto che poi effettivamente non è poi così difficile e devo dire che gli riescono pure molto molto bene e allora ha accettato il compito affidato gli da Bonelli di realizzare questo specialone di Tex devo dire che c'è lo stato dell'arte qui la sostanza l'essenza la capacità di ritrarre con poche linee un maestro che molti di voi poi conosceranno soprattutto sia per le storie o quelle dei piccoli ma anche per quello che faceva su Diabolic qui c'è Orloff addirittura Martin Mister qui però vedete tutte le signorine sulle quarte di copertina di Diabolic quindi un maestro molto duttile abile guardate che belle anche queste queste immagini sicuramente da non farsi sfuggire sempre a mio modesto parecchio anche per questa settimana il video lo abbiamo realizzato mi è preso un altro colpo perché il counter dei minuti è sotto lo cercavo sopra il simbolo del rack non lo vedevo ho detto qua non è partita la puntata oddio mio e vabbè ragazzi io vi auguro un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana peace e ci sentiamo un buon